non dite parolacce adesso eh che vi filmo eh ragazzi non dite parolacce allora oggi 12 settembre 2011 ci siamo ritrovati ritrovo annuale della grafignana e il grafignanone ma in quanti bisogna essere? una quindicina ecco adesso passo un attimo la videocamera al mio amico Ciro e io vado là sta già andando eh una che giri che è il Latierin che è il Miami na Troia l'Otavio che casin beh tranquillo che mi passa il tuo salato? guarda mi faccia ma che chi che è la pancetta? Carlo Alberto Alberto Laurino Valerio allora posso dire in America dire in che? bravo bene ma quei barboni mi portano via tutta la pensione ah eh anche lo Peluselli Dino Peluselli Mario Curti e che sacramento d'acce e rinca oh bella bella pella come lo